Ben ritrovati da Simone Nardone, un nuovo appuntamento con il Giornale Radio. Sessa Orunca va in commissariato per sporgere denuncia ma viene a sua volta arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nella notte tra mercoledì e giovedì un uomo di 43 anni in evidente stato di agitazione si era arrecato presso il commissariato locale per sporgere denuncia. Alla richiesta degli agenti di tirare fuori i documenti, l'uomo ha fatto cadere dalla tasca tre palline in cellofan trasparente contenente della polvere di colore bianco che poi è stato scoperto essere cocaina. A seguito della perquisizione sono state trovate altre otto palline simili. Lo stupefacente è stato posto sotto sequestro mentre l'uomo è stato arrestato. Ennesima giornata di passione è quella di ieri per i pendolari in viaggio sulla tratta Roma-Napoli via Formia. Alle primissime luci dell'alba di ieri i treni in transito hanno subito rallentamenti in serie per via di alcuni accertamenti tecnici sulla linea tra San Marcellino e Villa Literno nel territorio campano. Si sono cumulati così sulla tratta fino a 180 minuti per i 10 treni intercity e fino a 200 minuti per 11 treni regionali e anche 28 di questi sono stati persino riprogrammati. Solo nella tarda mattinata il traffico è gradualmente tornato alla normalità. Oggi 14 gennaio si celebrano i funerali di Stato del Presidente del Parlamento Europeo, l'italiano David Sassoli, venuto a mancare qualche giorno fa a causa di un grave problema di salute. Diverse le commemorazioni e gli appuntamenti ma anche i messaggi di cordoglio arrivati anche dalla provincia di Latina e dall'Alta Campania per l'esponente politico che tante volte era stato in questi territori. Il comune di Itei ad esempio ha comunicato che quest'oggi in occasione dei funerali esporrà le bandiere della casa comunale a mezz'asta in segno di lutto. Polemica politica a distanza tra l'ex prima cittadina di Formia Paola Villa e il consigliere regionale Pino Simeone. L'ex sindaco in una nota aveva attaccato nei giorni scorsi sul rischio per Formia di perdere l'occasione dei fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza. Nelle ultime ore è arrivata secca la replica dell'esponente alla Pisana che ha spiegato come grazie ai fondi del PNRR arriveranno sul territorio del sud pontino quattro case di comunità distribuite nei comuni di Gaeta, Minturno, Formia e Santi Cosme e Damiano, ma anche di un ospedale di comunità Gaeta e uno a Minturno, nonché di una centrale operativa territoriale a Gaeta oltre alla nascita del nuovo ospedale del Golfo a Formia. Il Covid blocca anche gli eventi culturali in presenza e i numeri molto alti dei contagi di questi giorni hanno portato al rinvio dell'evento previsto per gli studenti di fondi del Gobetti del Libero con l'autore del romanzo Vesuvio Marco D'Amore. Nonostante fosse tutto pronto e fosse stata applicata la lettera, la normativa anticontagio, la dirigente Rosalba Bianchi e i docenti responsabili del progetto invito alla lettura, hanno deciso precauzionalmente di spostare l'incontro con l'autore in accordo proprio con l'attore, regista, sceneggiatore e scrittore alla prossima primavera e per la precisione al prossimo mese di aprile. Questa era la nostra ultima notizia, un saluto da Simone Nardone a risentirci alla prossima edizione del giornale radio locale.